voglio darti una piccola, una breve parola mentre aspettiamo il fratello che viene subito dopo la testimonianza di Giovanni Battista è affidabile perché è rivelazione vediamo nella persona di Giovanni Battista chiamato da Dio come man mano che cammina gli viene rivelato il Messia così è la rivelazione il Signore non ci dice sempre tutto prima usa anche quest'altro metodo al momento che serve ci apre la possibilità di comprendere leggiamo insieme in Giovanni 1.32 dice così Giovanni rese testimonianza dicendo ho visto lo Spirito scendere dal cielo lo Spirito Santo S maiuscola come una colomba e fermarsi su di Lui ora Dio aveva detto a Giovanni Battista il segno che avrebbe conosciuto il Messia pertanto egli testimoniò così nel verso 33 leggiamo io non lo conoscevo non conosceva Gesù lo conosceva perché era parente ma colui che mi amo non lo conosceva come il Messia perché il Messia lo possiamo conoscere solo per rivelazione ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi quello è è quello che battezza con lo Spirito Santo cioè la sua testimonianza è affidabile perché gli veniva data per rivelazione divina queste cose si svolgevano vicino dove Lui battezzava poco lontano da Gerico nel verso 28 ne parla guardiamolo insieme dice queste cose avvennero in Betania di là dal Giordano dove Giovanni stava battezzando il giorno dopo nel verso 29 vedi la rivelazione come man mano gradualmente perché prima pensavano che Giovanni fosse il Messia i sacerdoti e tutti mandavano da Giovanni nel deserto ma tu chi sei? perché che tipo di predicazione hai? ma sei tu il profeta che doveva venire? sei tu il Messia? lui diceva no no io sono la voce di uno che grida dirizzate la via del Signore perché sta per arrivare il Re insomma il precursore quello che annunciava arriva, 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 arriva il verso 29 quando lo vede vede l'azione divina vede Gesù e dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo alleluia fu la rivelazione che fece vedere Gesù prima che fosse morto crocifisso l'agnello sacrificale non che copre il peccato come tutti gli agnelli miliardi nei secoli 1500 anni di sacrifici che venivano offerti coprivano il peccato agli occhi di Dio mentre Gesù per rivelazione divina gli viene detto lui lo purifica lui raschia toglie libera completamente fu la rivelazione che fece vedere l'agnello di Dio l'agnello di Dio ci purifica ci battezza nello spirito santo lui lì buttava le persone nell'acqua li immergeva nell'acqua e testimoniava prendendo questo esempio in Matteo 3 11 mentre buttava le persone nell'acqua lui testimoniava dicendo io vi battezzo con acqua perché voi vi ravvediate ma colui che viene dopo di me più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari egli vi battezzerà con lo spirito santo e con il fuoco egli vi immerge nello spirito santo come io vi immergo nell'acqua battesimo vuol dire proprio questo immersione usa un linguaggio agricolo il fuoco che purifica dice vi battezzerà col fuoco ma come si usava il fuoco per purificare c'è la purificazione dell'oro dell'argento dei metalli di valore vengono purificati dove le scorie vengono separate ma qui lui usa una terminologia agricola dice egli vi purificherà col fuoco infatti i contadini perché là era una zona di contadini non avevano le fabbriche il residuo di erbacce nel campo la stoppia si brucia per purificare il terreno tutte quelle erbacce e così via e che brucia anche quei semi di erbacce cadute per terra caduti per terra cioè i semi delle zizzanie delle spine e così via quando si brucia tutto si purifica il terreno perché i semi vengono bruciati e quando piove non possono più germogliare questa immagine ci aiuta a comprendere cosa fa lo Spirito Santo nella nostra vita lo Spirito Santo ci purifica brucia tutte queste cose semi caduti di erbacce che non possono più germogliare quando arriva la pioggia e nel verso 12 usa un altro esempio leggiamo il verso 12 dice così Matteo 3,12 Egli ha il suo ventilabro in mano ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile un giudizio vero e proprio per le cose che vengono tolte il ventilabro è anche un mezzo di purificazione che lascia solo il buono e il grano e toglie tutta la pula che viene bruciata il fuoco fa questa purificazione il vento anche purifica e beh questi simboli li vediamo ad effetto proprio prima di arrivare il fuoco della pentecoste guardiamo in atti capitolo 2 verso 2 dice improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso per pulire l'aia di coloro che erano in quella stanza che soffia e riempì tutta la casa dove si erano seduti come il ventilabro puliva l'aia ora lo spirito santo soffia tutte le cose vane nella vita di coloro che sono in quella sala il vento che purifica perciò lo spirito santo viene paragonato al vento che soffia Gesù anche porta questo esempio nel capitolo 3 di Giovanni verso 8 dice così il vento soffia quando arriva questo movimento dello spirito nella nostra vita notiamo nella nostra vita qualcosa che cambia ma non sappiamo da dove viene né dove va non lo sappiamo neppure spiegare così è di chiunque è nato dallo spirito cioè non sappiamo non possiamo inserirlo in un sistema di una denominazione proprio come Giovanni aveva detto in Matteo 3 11 rileggiamolo un'altra volta così non perdiamo il filo di questi simboli quanto sono importanti io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento ma colui che viene dietro a me più forte di me io non sono degno di portargli i calzari egli vi battezzerà con lo spirito santo col soffio dello spirito santo e con la purificazione che fa lo spirito santo e con il fuoco nel verso 3 degli atti degli apostoli non è solo il vento anche il fuoco alleluia gloria al signore bellissimo leggiamo il verso 3 apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro la divina presenza di Dio spirito santo che brucia purifica la stoppia tutti i residui di zizzani e semi che purifica come i contadini purificano il terreno col fuoco prima della semina così nella nostra vita brucia tutti i semi delle zizzanie soffia tutte le cose vane e prepara il terreno per il seme della parola di Dio che scende nel nostro cuore e si sviluppa essendo fatta questa purificazione resta lo spazio per crescere solo la parola di Dio grazie si onoresse al signore per questi egli ci sorprende sempre loro aspettavano qualcosa ma non sapevano che cosa era questo battesimo nello spirito nello spirito santo come quando scese la manna neppure il popolo di Dio nel deserto sapeva che cosa era la manna perciò noi quando ci mettiamo insieme dobbiamo aspettarci sempre delle promesse che vengono fatte dal signore con un'ansia di attesa nel dire signore siamo qui aspettiamo che tu operi nella nostra vita che tu operi in mezzo a noi che tu mandi con la tua presenza cambiamenti radicali nella nostra vita non li sappiamo prima ma se noi siamo intenti aspettando che le promesse del signore li realizziamo così sappiamo allora dobbiamo stare svegli nella presenza di Dio quando il popolo si mise a camminare seriamente con Dio Dio gli cominciò a far vedere un nuovo tipo di pane leggiamoli insieme i numeri 11 da 7 a 9 gloria sia resa a Dio la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di resina gommosa vai avanti fino al 9 il popolo andava attorno a raccoglierla poi la riduceva in farina con le macine o la pestava nel mortaio la faceva cuocere in pentole e ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia all'olio quando la ruggiata cadeva sul campo la notte vi cadeva anche la manna in esodo 16 31 loro non la conoscevano prima non avevano mai visto la manna la casa di Israele chiamò quel pane manna essa era simile al seme di coriandolo era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele quando noi ci raduniamo dobbiamo sempre desiderare che Dio compia un miracolo come sempre Lui fa all'improvviso perciò non dobbiamo restare distratti quando ci raduniamo dobbiamo Signore io ho bisogno di un miracolo nella mia vita ho bisogno di una parola che viene da Te ho bisogno di un insegnamento ho bisogno di sentire che Tu operi nella mia vita dobbiamo restare sempre così così stavano sull'alto solaio non sapevano il battesimo nello Spirito Santo che cosa era perciò all'improvviso così leggiamo nel capitolo 2 degli atti verso 2 dice improvvisamente ho voglia stasera lo Spirito Santo improvvisamente cadere sopra di te ungerti potenziarti influenzarti investirti in modo che tu senti il soffio dello Spirito Santo e il fuoco divino che comincia a purificare la tua vita perché il Signore così opera guardiamo improvvisamente leggiamolo insieme questo verso 2 improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove si erano seduti quando ci ha salvato quando ci ha guarito le risposte non le sapevamo prima io non sapevo prima di entrare nella chiesa la salvezza che cos'era quando mi è arrivato addosso sono uscito salvato e dicevo ma era così facile non lo sapevo noi dobbiamo essere ricercatori i ricercatori sono sempre a cercare secondo quelle cose che loro hanno studiato e si aspettano di vedere il risultato di quella ricerca che stanno facendo e infatti i ricercatori non sanno prima alcune cose che imparano mentre ricercano per fare la lampadina elettrica non è che mise insieme una bottiglia con un filo dentro e creò la lampadina provo migliaia di volte ma stava sempre con l'attenzione di vedere la scintilla che fosse diventata luce noi dobbiamo sempre come i ricercatori ogni volta che ci mettiamo insieme voler scoprire un qualcosa di nuovo che il Signore ci vuole dare non che noi la dobbiamo cercare come i ricercatori noi dobbiamo avere questo desiderio che Dio compia un nuovo miracolo nella nostra vita così dobbiamo restare nella sua presenza leggiamo fino al verso 4 cosa succede no apparve ma è un susseguirsi di sorprese apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro verso 4 prossimo passo tutti furono riempiti di Spirito Santo di fuoco e vento e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito Santo dava loro da esprimersi vedi tutta un tratto si trovarono ripieni di Spirito Santo e questa promessa è anche per noi nel verso 39 perciò ogni volta che ci mettiamo insieme sai che mentre sei insieme con noi lo Spirito Santo può cadere su di te mentre ascolti la parola del Signore che ti viene amministrata proprio come successe nella casa di Cornelio mentre Pietro parlava stasera il Signore lo può fare però non pensare di stare a destra e a sinistra devi con intenzione seria aspettarti che il Signore che il Signore compia un'opera nella tua vita mentre siamo insieme ma soprattutto se non sei battezzato nello Spirito Santo devi cercarlo col cuore se non sei salvato cerca la salvezza se hai bisogno della guarigione aspettati la guarigione se hai bisogno di una risposta dal Signore continua con questo desiderio nel cuore perché egli è pronto a rispondere come la promessa del Battesimo dello Spirito Santo è per tutti così è anche la salvezza la guarigione e quante risposte il Signore ti vuole dare restiamo intenti aspettando che il Signore operi questa sera su ciascuno di noi leggiamo il verso 39 poiché per voi è la promessa per i vostri figli e per tutti quelli che il Signore chiamerà per lungo tempo appresso nei secoli a venire se non torna subito e se torna subito cerchiamolo ancora prima che arrivi può venire stanotte allora cerchiamo da adesso che il Signore ci battezzi nello Spirito Santo che il Signore ci salvi che il Signore ci guarisca che il Signore ci istruisca che il Signore compia l'opera Sua nella nostra vita ringraziamo il Signore Signore e ti ringraziamo per la Tua Parola siamo aperti a Te mentre ancora ascoltiamo la Tua Parola attraverso i Tuoi Servi che sono già pronti Signore per amministrare la Tua Parola ungili con lo Spirito Tuo Santo ed ungili le nostre menti per ricevere quello che Tu vuoi dare a ciascuno di noi in questa sera ancora nel nome di Gesù Amen 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 Grazie a tutti